Ciao e benvenuti, vi volevo mostrare speaker, come poter creare la vostra web radio, il vostro giornale digitale in pochissimo tempo, basta creare il vostro show, una volta che create il vostro show potete inserire all'interno del vostro show diversi episodi, come potete notare se ne possono creare diversi anche con un account basic, come diciamo nel primo show è presente soltanto un episodio, mentre nel secondo 30 episodi, allora cliccando potete praticamente gestire il vostro show tramite la pennina, modificarlo, embeddarlo, usare gli RRS oppure monitorare chi lo visiona, se volete modificarlo basta cliccare sulla penna, scegliere praticamente il vostro titolo, inserire il vostro URL o comunque modificarlo, poi praticamente l'immagine, inserire praticamente anche una descrizione, scegliere a chi rendere visibile, a pubblico praticamente significa che tutti lo possono visionare, privato significa che forse non lo può visionare nessuno e accesso limitato lo possono vedere chi ha l'URL, però si può attivare questo di qua accesso limitato soltanto con un account diciamo Opro, poi potete scegliere la lingua, la categoria, i tag, una volta che avete inserito diciamo tutte le informazioni, avete inserito i vostri episodi, li potete embeddare tramite presente il codice embedd che vi consente esplicare sia di mettere l'iframe, sia di embeddarlo all'interno di un sito WordPress oppure praticamente tramite un codice.